Arena di Milano, confronto fra Italia e Cecoslovacchia, 800 metri, Marcello Fiasconaro e Josef Plachy distanziano nettamente già ai 400 metri gli avversari Kovac e Riga, notevole il passaggio al primo giro, 51 e 2 per l'Italo sudafricano. Pungolato da Plachy, avversario scomodo, argento agli europei già nel 69, Fiasconaro prosegue la sua corsa a ritmo sostenutissimo, tempo ai 600 metri, 1,16 e 5. Vinta la resistenza dell'avversario, occhi ora sul tempo, il risponso cronometrico per Fiasconaro è esaltante, 1,43,7, nuovo primato del mondo, migliore di 6 decimi, il record detenuto in combinazione da tre campioni olimpici, Snell, Daubel e Wattel, un vanto per l'atletica italiana.